Marcello un saluto a te e ai tuoi ospiti. Atalanta-Juventus 2-2, non ne facciamo un dramma, il pareggio ci può stare, è arrivato in una maniera rocambolesca soprattutto perché una Juve ha due facce, il primo tempo così così, molto bene l'Atalanta e il secondo tempo la Juve è venuta fuori, ha giocato diciamo più da Juventus anche se non era una di quelle serate in cui abbiamo sfoderato la migliore prestazione, anzi tutt'altro. Lo dimostrano i due gol presi, cosa rarissima, se considerate che i due gol insieme era parecchio che non mi ricordo quanto tempo sia passato dall'ultima volta che ne abbiamo presi due consecutivamente ma soprattutto sono arrivati con due distrazioni e nel finale e questo sottolinea la poca concentrazione evidentemente che abbiamo ottenuto nella prima frazione di tempo e soprattutto alla fine quando ti sei trovato in vantaggio e hai verificato tutto con un errore, tra l'altro poi la palla l'ha buttata dentro. Dicevo non ne facciamo un dramma, il pareggio ci può stare, è arrivato in maniera così un po' grazie agli errori nostri, però diamo merito all'Atalanta perché è una buona squadra, lo ha dimostrato anche ieri sera, merita il posto che occupa e la Juve vedrete che farà tesoro di questa serata e sicuramente già dalla prossima partita con il Monaco ci rifaremo e ritorneremo ad essere la Juve che conosciamo. Il calcio di rigore io non ne vorrei parlare, dico solo che il rigore c'era, l'arbitro non lo ha dato, anzi in un primo momento aveva fischiato il calcio di rigore, poi è ritornato sulle sue decisioni consigliato, non so da chi, per fischiare poi qualcos'altro che evidentemente lui non aveva visto. Ci sta non interizziamoci, queste le lasciamo agli altri, le lamentele, le scuse per non aver vinto la partita, quell'episodio o quell'altro, noi siamo la Juve, dobbiamo fare tesoro dei nostri errori, se abbiamo pareggiato è grazie alla prestazione, diciamo a metà che abbiamo fatto ieri sera condita da diversi, come abbiamo detto, errori e non andiamo oltre con episodi vari. Rimbocchiamoci le maniche, non abbiamo ancora vinto nulla, il punto di ieri sera è un punto preziosissimo che nel computo finale, nella classifica finale può voler dire molto, comunque il pareggio non ha precluso nulla, andiamo avanti, vorrà dire che lo scudetto lo festeggeremo una giornata dopo, la festeggeremo magari in casa con il crotone o quando sarà, poi vediamo cosa farà la Roma domani perché c'è da vedere anche, non è detto che potrebbe essere anche un punto guadagnato sulla classifica, quindi comunque sì, anche se dovessimo ritornare a 6 punti va bene ugualmente, quindi credo che la Juve debba continuare così senza fare drammi, è un pareggio, punto. Chiudo dicendo, si parla della VAR, io credo che la Juventus, qualcuno dice adesso c'è la VAR, non vincerete più perché siete sempre aiutati, questo naturalmente non è vero, lo dicono gli altri e invece aggiungo, così come ho scritto da qualche parte e lo voglio dire anche adesso, che con la VAR la Juve vincerebbe molto prima perché ci sono stati molti episodi a nostro sfavore che potevano appunto regalarci qualche punto in più, come era giusto che sia, e togliere qualche punto e avere qualche punto in meno da parte delle squadre che ci stanno alle spalle perché hanno avuto parecchie di loro diversi episodi favorevoli, quindi con la VAR e con la Juve di questi ultimi anni sicuramente di questi periodi già lo scudetto lo avremo cucito al petto. Ciao a tutti e alla prossima!